Italiano. Avventurarsi tra fuoco e acqua, i segreti della caldera dell'Ilopango. Parti per un viaggio nell'affascinante regno delle caldere vulcaniche, l'Ilopango è un segreto ben custodito che aspetta di essere scoperto. Per sottolineare questa prospettiva, mi rivolgo a voci stimate nel campo della scienza, come Ivan Sunnei-Pushol, Gerardo Aguirre, Eduardo Gutierrez, Walter Hernandez, Enrique Barraza, Robert Duhl, Carlos Pulinger, Chris Begley, Carmen Lopez Moreno, Benanzio Enriquez e Roberto Gallardo per citarne alcuni. Questi esperti fanno luce sulla storia e sul significato di Ilopango, un tesoro come nessun altro al mondo. El Salvador è orgoglioso di essere tra i venti paesi con il maggior numero di vulcani all'interno dei suoi confini. Tonga, El Salvador e il Giappone. Emergono come i primi tre in termini di superficie terrestre rispetto al numero di vulcani, con i venti vulcani di El Salvador sono una distinzione notevole. Non sorprende che durante il periodo coloniale gli spagnoli chiamassero El Salvador la valle delle hamache. La caldera dell'Iropango è uno dei vulcani attivi più antichi del mondo, formando parte dalle eruzioni più devastanti. Offrendo un'opportunità unica di emergersi in un vulcano d'acqua dolce, le cupole di lava testimoniano questo ambiente unico. Nel 2017, una spedizione sul campo nella caldera dell'Iropango con i professori Gerardo Aguirre e Ivan Sun e Pushol ha offerto loro informazioni sulla sua attività vulcanica. Il professor Sun e si è immerso per ispezionare l'ambiente vulcanico sottomarino. Il 30 di maggio 2019 un forte terremoto ha modificato la topografia sottomarina della caldera. Questo ambiente dinamico mostra i cambiamenti in corso all'interno di Ilopango. Ivan Sun e Pushol, figura di spicco della comunità scientifica, incoraggia i viaggiatori con questa citazione, un buon invito per incoraggiarti a viaggiare in El Salvador per immergerti nel lago di una caldera attiva, grazie per aver ascoltato un tola storia di Ilopango. Segui il mio blog che promette ulteriori avventure, informazioni e fatti sul vulcano, rendendolo una risorsa preziosa per chi è interessato alle meraviglie geologiche. ICV unico al mondo.